Una nuova commedia scritta dalla signorina Jo March. Le donne hanno una mente, hanno un'anima e non soltanto un cuore. Io voglio essere il massimo, o niente. Hanno ambizioni, hanno talenti e non soltanto la bellezza. Sono così stanca di sentir dire che l'amore è l'unica cosa per cui è fatta una donna. Sono così stanca di questo. Un grande cast d'eccezione, un grande classico della letteratura. In prima visione, piccole donne. Mercoledì 21 e 25, Rai 1.